Vi presento la mia signora, guarda che strana somiglianza è il quadro di Raffaello, eh? Che strana somiglianza, Beatrice Stracci. Beatrice Cenci. E bene, Cenci e Stracci è la stessa cosa, poi. Allora signora, noi faremo un corso rapidissimo di luogo. Comincieremo col tuffo. O che ti è il tuffo? O niente tuffo, e te riconosco, non compiti le cose. Cerchi di semplificare, sospetto il tuffo. Ma no, non c'è paura, sarà il male di ingoiare un po' d'acqua salata. Senti come parla, bagordi, bagordi, gozzoviglie, bacanali, intemperanze, l'acqua salata ti fa male alla gola, una cunciglite, una raucesina, un l'occhio polino, del gargarottino, non voglio assolutamente. Ma bisogna bene che intoniglina con la voce. Teresa ti prego, non dire delle ipertrofie cefaliche, tu ti abbandoni a delle panzane, degli strambotti, delle cusperie. Oh. E lei non fa bagno? Io non faccio bagno, modestamente sono da dieci anni che non entro nell'acqua. Sinceramente non ci sei mai entrato. Ti figuri, ha una tal paura dell'acqua che non si lava neppure le mani. Sì, perché sono talmente pulito che molte volte non entro nell'acqua per tema di insodiciarla. Signor maestro, vogliamo fare la prima lezione? Volentieri. Volentieri, mi raccomando, eh. Le le mangano, viene di comprire, la metto nelle lezioni, che non si faccia del male, eh. Ma non abbia nessun timore, le metterò i galleggianti di Tuggero, la ciambella, prenderemo tutte le precauzioni. E crede che imparerò? Ma certo. È vero, sono un maestro così simpatico. E' vero, è vero, è vero, è vero, è vero. E' vero, è vero, è vero. E' vero, è vero, è vero, è vero, è vero. E' vero, è vero, è vero. E' vero, è vero, è vero, è vero, è vero. E' vero, è 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 vero, Grazie.